buongiorno ci troviamo a casa del presidente rosario crocetta era il 17 giugno e andava in onda una nostra intervista al presidente crocetta in cui parlavamo dell'uomo crocetta del governatore crocetta poi è successo pure che mi chiamo un giorno maurizio crozza e mi dice dice guarda hai fatto un'ottima intervista mi piace vorrei fare l'imitazione però è vola sapere com'è che tutti questi oggetti questa casa come avevamo fatto tutta questa scenografia ho detto guarda di fatto siamo entrati a casa ci siamo seduti e abbiamo fatto l'intervista tutto quello che c'è e come sempre quella è casa crocetta allora presidente oggi come la devo chiamare disoccupato pensionato un politico socialmente utile che cos'è oggi rosario crocetta tanto se sono disoccupato sono disoccupato con onore molti miei predecessori insomma si sono trovati disoccupati ma non certamente senza problemi vengo dal popolo non dimentico mai questa bussola figlio di un ex operaio figlio di un operaio e di una madre che faceva la salta per mantenere quattro figli in casa quando era mio padre era disoccupato e molto spesso era disoccupato proprio per la precarietà del lavoro contrastato sempre dalla politica innanzitutto al mio partito anche quando erano le pc ho avuto problemi enormi mi volevano sbattere fuori per per via delle diciamo delle mie preferenze sessuali una discriminazione proprio possiamo dire una discriminazione di genere una discriminazione intollerabile e poi la mia candidatura assinta con il 2002 sono le riroscene incredibili la mafia che si oppone alla mia elezione le elezioni truccate perdo con 107 voti e nell'11 marzo del 2003 vengo proclamato al tar con 532 voti in più ma ancora lì il mio partito non mi voleva allora mi volevo io avevo delito allora al pdc ma c'erano i ds con un contrasto tremento fecero un sottaggio il centro sinistra era data c'è al al 30 per cento infatti loro presero il 30 per cento solo che io a primo turno andai a 48,5 per cento e vinsi col tano poi dopo dopo a seconda legislatura mi avevano detto guarda che tu con questa battaglia che hai fatto contro la mafia non ti voterà nessuno invece riconfermato a primo turno quel 65 per cento questo significa possibilità per esempio che non mi è stata data alle ultime regionali poi la mia candidatura a parlamento europeo promessa veltroni e poi messa in discussione perché era cambiato il segretario franceschini che poi alla fine grazie alla battaglia di veltroni rispetto agli impegni poi la mia esperienza come presidente della regione anche di contrastato a tutti non si va da nessuna parte non vinciamo con crocetta perdiamo e troppa sinistra e troppo alternativo e troppo solo come tutto quel troppo alla fine io sono l'unico presidente della regione siciliana che in 70 anni ha vinto le elezioni in sicilia e chissà quanto si presenterà una occasione di questo tipo per il centro sinistra lei si insedia come presidente della regione e vediamo tutti i giornali che parlano lei per primo cancelleri pure e dicono c'è crocetta insieme cinque stelle la sesta stella si parla di un grande accordo finalmente di questo centro sinistra con i cinque stelle sembra una nuova era il palermo la sicilia normalmente laboratorio e invece che succede si rompe subito quindi ancora una volta una rottura con crocette cinque stelle cosa è successo con i cinque stelle già il giorno prima della mia elezione sono cominciati gli attacchi nazionali contro rosario crocetta panorama esce con due articoli con la prima pagina crocetta e i boss per cui io non ero per panorama l'uomo condannato a morte dalla mafia gelese quello che aveva licenziato la 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 moglie del boss emmanuello non ero un condannato a morte della mafia non ero quello che aveva fatto le denunce pazzesche che hanno portato poi ci a una rivolta della città che ha che ha dato risultati per 825 mafiosi arrestati negli anni in cui io sono stato sintaco di cena no ero invece l'uomo dei boss grazie a dossieraggi di soggetti molto contigui a se a quel sistema che io compattevo e panorama è stato poi condannato in tribunale contanna penale con risarcimento di 5 stelle che è successo successe che noi addirittura grillino parlò di un modello bellissimo quello quello siciliano successo una cosa la metamorfosi il cambiamento da dei 5 stelle che da movimento diventarono partito per cui non gli interessava più mettere insieme a prescindere dalla tessera gli uomini e le donne che potevano cambiare la storia del paese l'italia ma in qualche modo capitalizzare uno attraverso l'opposizione dei voti per il loro movimento tanto per scontato che poi sarebbero diventati diventati loro sarebbero andati loro al governo della regione calcoli errati perché non sapevano non capivano quando era stato difficile smandellare e sconviggere centrodestra in quelle in quelle elezioni e come la strutturazione centrodestra a radici profondi nel sistema clientelare che è stato fondato formato in 70 anni nella regione siciliana di comitati di affare di gruppi di impotentati di collateralismi mafiosi e che quindi la destrutturazione di quel sistema prima che il mandellamento e lo smandellamento dell'esperienza crocetta dove essere l'obiettivo di tutti i democratici ricordo un'esperienza incredibile quando io mi incontrai con tutti i parlamentari ragazzi e le ragazze dei cinque stelle all'asse discutemmo di acqua di rifiuti di questione morale di formazione di rilancio di fonti europei raggiungendo un'idea se una sintonia incredibile però l'indomani mattina cancelleri che sin da allora era candidata a presidente della regione andò a fare una conferenza con la stampa sbagliato tutto politicamente io non voglio fare accuse personali ai cancelleri né a nessun altro né a nessun altro però sbagliando tutto perché l'indomani poi dopo qualche giorno pensando di cavalcare l'opposizione a crocetta cancelleri cantida il proprio affossatore musumeci a presidente della commissione antimafia dandogli la volata errori politici madornali cioè l'onorevole musumeci attuale presidente della regione è stato candidato dal da cancelleri cinque stelle ed è stato eletto con i voti cinque stelle a prendere la commissione antimafia certamente questo fu un grave errore politico ora non discuto io se ce ne ci poteva essere un altro ma sul terreno delle alleanze questo è un grave una grave hanno preferito allearsi praticamente con il centrodestra negli anni per fare l'opposizione a me piuttosto che a dare supporto a un presidente della regione che voleva dialogare con i grillini e ancora oggi si pone il problema io sono un sostenitore oggi del dialogo col movimento cinque stelle che a mio avviso può dare dei risultati questo governo è stato un governo crocetta un governo pd con crocetta perché poi sempre dalle cronache e in tutto in tutti questi anni cosa abbiamo visto abbiamo visto che c'era un governo crocetta ma dalle dichiarazioni io ho ascoltato come tutti abbiamo avuto leggere dichiarazioni dell'onorevole cardinale che diceva questo governo non sta facendo nulla questo governo va male dichiarazioni dell'onorevole davide faraone che diceva che questo governo era uno sfascio incredibile quindi entrambi parlavano di un governo crocetta e non di un loro governo la chiariamo una volta per tutte lei ha fatto un governo crocetta un governo con i renziani senza i renziani cioè cosa è successo anche lì ma il governo crocetta è durato un anno poi c'è stato il governo dei partiti e questi quelli che quelli che praticamente gestivano il potere vero negli assessorati nella partecipazione diciamo anche alle partecipate altre cose gli incarichi nei gabinei cioè gente che praticamente da un lato godeva di tutto il sistema di governo e dall'altro faceva un'opposizione ma l'opposizione di faraone non la incassa il partito democratico che viene devastato invece da questa logica la voleva incassare faraone pensando che dove potesse essere il candidato presidente della regione io all'aprile l'anno fa di un anno fa il 2017 in pratica feci fare un sondaggio da ipsos e nel rapporto io lui io era dato al 25 per cento lui era dato a 5 a 4 per cento cioè questi erano infatti poi lo capì il renzi e lo misero da parte per cui faraone in realtà fatto il killer per conto terzi di quel sistema romano che mi voleva fare fuori di quel sistema nazionale che mi voleva fare quello dei poteri veri che porta la consi che porta le banche che porta agli affari della sanità che mi dovevano fare fuori lui ha giocato un ruolo ha giocato il ruolo più sporco e io non so quanto sia stato consapevole davide fraone di di agire per conto terzi e persino per conto di poteri occulti che volevano fare crocetta fuori perché denunciava il la truffa montepaschi nei confronti della sicilia denunciava quel patrimonio di bigotti sul sull'immobiliare sulla che sulla società immobiliare siciliana che ha portato alla svendita del patrimonio della regione ventuto per metà del suo valore riaffittato alla regione il doppio del del valore di mercato tutte quelle vicente incredibili la svendita della banca del del l'irfe sventuta per 10 milioni di euro tutta una serie di vicente ma anche il italia l'assicurazione della sanità di 150 milioni tutta una serie di cose con i poteri forti italiani che mi volevano fare fuori e con un faraone che pensava che ci fosse soltanto un derby di interno al partito per cui bastava i candidati nel pd erano tutti praticamente tantissimi pensato proprio che noi ormai avremmo conquistato avevamo conquistato la sicilia e che la vittoria era certa e risonabile bisognava come diceva faraone candidare uno di noi io non ero uno di loro ma all'interno di questo governo c'erano 12 assessori gli assessori li hanno nominati lei quindi questo governo è andato male come hanno detto poi gli uomini del pd renziani in particolare e non l'hanno più ricandidata ci sarà un motivo allora i casi sono due o questo governo era un governo attrazione renziana o era un governo attrazione crocetta perché comunque le dichiarazioni e i risultati non sono stati brillanti poi vediamo se non sono stati brillanti perché non è che il giudizio che qualcuno può è la realtà i pd 12 assessori ultimamente ne aveva otto quindi cosa stiamo parlando alcune espressioni faraone ne aveva quattro era quello che si lamentava di più da solo aveva uomini nei gabinetti nel in tutte le strutture eccetera eccetera solo che faceva un attacco quotidian la cosa più ridicola che ho sentito di faraone quando attaccava il bilancio della regione dicendo che era un bilancio se che non pirava le politiche di sviluppo tutto sulla spesa corrente peccato che il bilancio lo faceva il suo uomo che era baccei l'uomo indicato dal suo partito dagli uomini di renzi al governo e concordato con lui cioè per cui da un lato aveva l'uomo che gestiva il bilancio con tutto il gabinetto di sua fede totale e dall'altro attaccava il bilancio della regione che poi non era vero perché noi abbiamo trovato un buco di bilancio nel 2012 ben 5 miliardi 2 miliardi di disavanzo e 2 miliardi e 7 i debiti non riconosciuti e li abbiamo dovuti pagare abbiamo trovato una regione che aveva una spesa europea in cinque anni a 2,5 per cento in due anni e mezzo abbiamo fatto il 100 per cento abbiamo fatto l'accordo con lo stato abbiamo fatto il patto per la per la sicilia oggi renzi che è l'uomo che vorrebbe fare il ponte viene a parlare a messina del del patto per la sicilia dicendo che ci sono sostegni per tutti i comuni del messinese un miliardo abbiamo dato a messina ma quella scelta l'ho fatta io perché loro volevano le grandi opere io invece ho canalizzato la spesa nei piccoli e medi progetti tutte le città siciliane oltre 1400 cantieri non puntando alla vecchia politica sulle infrastrutture ma invece per una politica diffusa nel territorio soprattutto che può privilegiare le imprese siciliane quelle sono le mie battaglie le mie battaglie i due miliardi allo stato avuti a roma non sono un regalino perché faraone che è un bimbo minchia per essere chiari e il suo capo è il supremo bimbo minchia il suo capo era uno che diceva se noi gli vorremmo dare i soldi alla sicilia il governo ma non possiamo darli a crocetta perché l'obiettivo era cadere crocetta qua e io andai a protestare a roma dicendo che me ne sarei andata alla procura della repubblica per queste gravi affermazioni che sono al limite del voto di scampio non si può dire ricattare un presidente della regione che siccome non sei tu il pupillo di renzi non ti diamo i soldi questo è successo alla fine io quei soldi li ho ottenuti ma li li ho ottenuti per la sicilia senza piegare la testa con dignità senza dire vo sia benedica come si diceva una volta in sicilia anzi vo scienza benedica però ci ha perduto la presidenza della regione ma mi dico una cosa c'è stato questo accordo con renzi o non c'è stato questa promessa di renzi che renzi e farò hanno detto mai promesso nulla a crocetta e che raciti invece ha detto che invece la presa c'è stata c'è stata questa promessa questo impegno per questa sua marcia indietro come candidato per la seconda volta o no io mi sono giocato la presidenza della regione ma non mi sono giocato la faccia bello posso guardare con al fronte alta i siciliani come le donne della sicilia me stesso allo specchio che io non mi sono non ho avuto mai padroni nella mia vita e continuo a non avere la promessa ma guarda io ti racconto in particolare intanto faraone non era presenti e renzi non ha mai smentito per essere chiaro invece l'ha confermata racitti a me non me ne frega assolutamente nulla per essere chiari il problema che io non sia candidato non è un mio problema è un problema di renzi se un leader uno che si canti dalla perché è stato presidente del consiglio e si canta dalla presidenza del consiglio non mantiene manco la parola ma che credibilità ora quali erano i termini di questa questione io nei primi settembre vengo chiamata a roma da renzi gli propongo caro renzi io voglio le primarie se debba essere lo statuto del partito democratico prevede che il presidente della regione uscente e automaticamente ricandidato a meno che non si facciano le primarie e viene sconfitto volevo avere questa possibilità renzi mi fa non ci sono i tempi beh veramente lo diciamo da un bel po da luglio che c'erano le primarie poi ci si inventò quella candidatura che non c'era di grasso per perdere tempo per non fare le primarie e nel frattempo avevano in testa io penso al sindaco al rettore di palermo io gli ho detto è una sconfitta sicura addirittura volevano a candidare allora navarra pure il rettore di messina io gli disse che la candidatura era inopportuna e che io non ci sarei stato mai perché quando tutti dicono tu parli di navarra adesso che non sei stato candidato è un falso io glielo dissi a renzi nei primi settembre faraone voleva candidare navarra e lo stesso renzi si oppose su mia richiesta per essere chiari quella vicenda mi dice mi richiama dopo una settimana io ci rivado e ci guarda qui non siamo in condizione di fare le primarie tu non ti puoi assumere la responsabilità di dividere centrosinistra perché questo in pratica porta alla sconfitta sicura la terza volta lui mi fa delle proposte concrete mi dice guarda c'è una prospettiva per te e io gli dissi caro matteo tu non puoi darmi nulla che io non mi posso conquistare da solo perché se io mi canzio del mio movimento e lo candido alla alle elezioni regionale con la mia candidatura io mi trascino almeno sette deputati e mi faccio leggere al deputato all'asso io gli dissi con chiarezza voglio il riconoscimento del megafono movimento politico del pd renzi ci c'è tutto il riconoscimento allora le condizioni perché io ritiri la mia candidatura sono uno quello che chiedo io poi quello che mi offre lui e non rispettato un'altra cosa in realtà non è rispettato niente uno il megafono presente in tutte le liste regionali e nazionali con il pd alle nazionali dobbiamo vedere se il megafono deve presentare la sua lista o avrà gli uomini e i propri candidati e lui mi dice sceglierai tu ci saranno uomini del megafono nel listo del pd a livello nazionale nessuno alla fine il per quanto riguarda il regionale benissimo la tua lista io devo essere candidato capolista a palermo catania messina dopodiché si chiude questo accordo viene che non è vero che non è stato confermato è venuto a confermarlo guerini basterebbe leggere quello che ha detto guerini che c'era questo accordo per il riconoscimento politico e per le candidature del megafono con renzi detto guerini e la direzione lo sapevano tutti è stato approvato dalla direzione regionale quella quella la proposta di guerini poi appena abbiamo cominciato a discutere di liste succede che a primo incontro con farone guerini e fraciti e antonio rubino faraone urla che con me non c'era nessun accordo politico anche perché per il semplice motivo che avevo fatto firenze fuori alberto firenze fuori dall'erso alberto firenze che l'uomo che organizza anche i finanziamenti della leopolda siciliana organizzata da faraone praticamente io non lo riconfermo a non mi fidavo tutto qua non 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 mi fidavo di quest'uomo consigliere comunale di casa castelvetrano di forza italia eccetera non capivo cosa c'entrasse con la nostra storia e faraone mi mi urla anche l'accordo corrente io te lo faccio saltare perché in pratica tu mi hai fatto un danno che incredibile non riconfermando alberto firenze che poi si trova nell'inchiesta questa combaci delle dei videogiochi ma firenze io non capisco appunto come poteva far saltare un progetto politico gli disse ridicolo cioè tu praticamente per una nomina fai rompere un accordo politico manco un consigliere comunale di un piccolo paese fa così che siccome non gli danno l'incarico all'amico praticamente farà la lotta politica io vengo fatto fuori praticamente e non si rispetta l'accordo politico perché non avrei confermato l'uomo di faraone questa è la logica della politica che attraversa questa questo pd degenerato questo pd profondamente degenerato praticamente invece di ringraziarmi il pd mi dovrebbe ringraziare molto in questi anni perché se questo governo è finito dopo tre mesi il mio governo con una serie di soggetti indagati che poi sono stati indagati che avevano fatto crollare il governo e l'esperienza del centro-sinistra in sicilia era seduta alla mia alla mia resistenza alla capacità di tenere diritto sempre a questione la questione la questione la questione dice guarda se cinque anni fa mi avessero chiede detto che io per salvare i pd mi dovevo rivolgere la storia di crucette io non ci avrei mai creduto queste parole di renzi però renzi mi telefona e mi dice guarda se dovevi per salvare i pd dovevo rivolgermi a te non l'avevi detto devi ritirare la tua lista che era l'accordo politico che noi avevamo perché sennò il magnifico si ritira le elezioni e noi non siamo in condizione più di raccogliere le firme di presentare la lista del pd e le altre liste del centro-sinistra chiaramente manco quella del megafono e io fece una valutazione non posso presentare la lista salta e pd mi prendo la responsabilità storica di fare saltare i parlamentari del pd che dovrebbero essermi grati a vita per quello che io ho fatto per il mio sacrificio mi molo ritiro le mie liste e siamo costretti a candidare con i fuggi fuggi generale perché quelli che avevano i voti se ne sono andati per essere chiari il fuggi fuggi generale dal degli uomini e le donne nel megafono a dare oltre il 60 per cento dei candidati alla lista micari orlando e bianco che dovevano fare la lista micari in sostanza danno 12 candidati orlando 0 candidati bianco che doveva candidare un suo uomo porto che poi è candidato con centro-destra e dove si dice e dove si dice che lei ha fatto saltare la lista a messina e a siracusa perché così avrebbe perso l'ha stato lui che non ha fatto presentare la lista messina perché si candidata messina avrebbe perso insomma la verità su messina e siracusa parliamo della lista di arcipelago che poi divento lista del presidente micari tutto quanto lei allora si è ritirato ha fatto questa bella fuga per non perdere cioè io praticamente che avevo lottato come un dannato per essere candidato nei tre collegi catania messina e palermo a un certo punto mi faccio saltare la lista noi il tema invece è diventato un altro che dopo renzi che non mantiene l'accordo sulla presentazione delle liste noi andiamo al pd e ci consegniamo in sostanza no alle forche caudile del pd romano il lì prepariamo le liste io sono candidato nella lista micari palermo messina catania arriva micari e fa come un pazzo già faraone giorno prima era fuggito con le firme quando c'era questo problema che il mega del megafono eccetera era scappato con le firme l'abbiamo perso per tutta la giornata alla vigilia della presentazione delle delle firme io immagino un sottosegretario che praticamente scappa con le firme per non farci presentare le liste poi micari appena sente che io ero capolista diventa come un pazzo e i faraoniani subito delle ragioni a micari e dico tranquillo non mi presento a palermo poi a catania appena visto che ero capolista catania prende le firme e scappa alla fine rimane solo messina io candidato capolista quindi mi fanno saltare loro la candidatura a palermo catania dopodiché rimane da presentare siracusa e messina a siracusa la lista era la doveva fare farone e cosa e reciti perché ci avevano fa dopo che la lista avevamo ritirato il megafono ci scappano tutti i candidati di siracusa questi candidati del pd non arrivano mai e c'è faraone che vuole per forza piazzare i propri uomini a danno diciamo degli uomini vicini a reciti e mantiene questa e e sequestra le firme faraone e non si risultate questo su messina ci deve dare un candidato faraone che fino alle ore 14 del venerdì che si presentano le liste non dalla prova no faraone non dà la propria disponibilità non è certo per cui non davano l'apparentamento per fare partire perché ho detto massimo a mezzogiorno debbbero partire le firme massimo a mezzogiorno tutti i documenti in modo tale da poter presentare invece lo che gli erano alle 14 e da messina da palermo a messina non ce la fai arrivare arrivano alle 16 uno arriva prima con la parte dei documenti dove c'era la mia candidatura i documenti invece della candidatura degli altri di faraone e compagni praticamente arrivano alle 16 e 8 minuti perché ci vengono restituite alle due con un presentatore di lista che rischia la pelle di si fra l'altro ha un'interruzione nella macchina eccetera che corre come un dannato palermo messina per presentare questa lista il capolavoro praticamente mi avevano fatto fuori da tutte le candidature alle regionali io non dovevo diventare presidente deputato regionale poi alle politiche il capolavoro di farmi fuori anche delle elezioni politiche crocetta deve essere fatto fuori dalla mafia per fisicamente dalla politica politicamente a cinque anni di governo ci saranno stati due momenti particolari che le ricorderà sempre un momento che sarà stato il punto il punto più basso per per il governatore per l'uomo e anche ci sarà stato forse una grande soddisfazione un momento alto che le ricorderà di questi cinque anni giorno più bello è stato quanto praticamente sono uscito ho fatto la cerimonia di insediamento nei locali della biblioteca centrale sono uscito e mi aspettavano migliaia di manifestanti che protestavano io non avevo manco messo piede alla regione avevo già quelli che organizzavano la protesta con forestale ex PIP che non prendevano i soldi i precari di palermo ad attendermi e io scortato in pericolo a un certo punto ho fatto varco in mezzo al cordone di sicurezza dei poliziotti che c'erano a proteggermi e sono andato ad abbracciare quei precari mettendo il rischio le mie incolumità in quel momento ho sentito bravo rosario se uno di noi questo è stato il momento più bello cioè che cosa che poi mi è capitato negli ultimi cinque anni sempre di contestatori che poi si trasformavano in amici con i quali discutevo ho capito che al di là loro mi avevano visto non più soltanto come presidente ma come essere umano quindi ero riuscito a comunicare la mia umanità l'altro momento bello voglio dire quando abbiamo approvato la legge sui disabili che adesso mettono in discussione il momento peggiore lo sanno tutti e il fattaccio più ignobile della storia repubblicana italiana una cosa incredibile che il metodo boffo praticamente un affare da direttante quando si inventarono quella intercettazione sull'espresso che poi è stata smentita da tutte le procure e persino negata nella difesa dagli stessi giornalisti che l'avevano scritta in quel momento io mi sono sentito in quel momento io ho sentito crollarmi in mondo addosso mi sono detto sono 15 anni che vivo prigioniero minacciato dalla mafia 15 anni che dove a gelo dal balcone di casa mia non riesco mancare a facciarmi 15 anni dove vivo con vetri blindati sicurezza quelle macchine blindate che ti striterono proprio ti imbrigionano e che magari gli altri vedono come segno di privilegio quanto tu magari vorresti avere la voglia di andare in bicicletta passeggiare a piedi prendere un treno andare a un cinema io sono 15 anni che non vedo un film in un cinema una cosa normale perché non mi si può fare la sicurezza al buio in quel momento tutti i sacrifici i momenti difficili della mia vita le denunce che ho fatto i proiettili che mi sono arrivati le minacce gli attentati ai quali sono scampato l'emozione la voglia di dire ecco la mia libertà e il mio coraggio la capacità di denunciare mi sono crollati accusato di una cosa ignobile il dottore Tutino mi aveva che poi voglio dire il dottore Tutino è il figlio di Riina avrebbe detto per telefono il lucia la fine di suo padre come se Tutino potesse concepire un omicidio e io non avrei detto nulla quando poi in quell'articolo non c'era cosa avevi detto prima cosa avrei detto dopo in pratica e c'era solo un silenzio ma c'ero io a telefono e in ogni caso quella telefonata non esisteva un complotto un vero golpe contro la Sicilia che era finalizzato a farmi cadere e se non fosse stato per le procure siciliane che poi hanno smentito prima di tutto la procura di panermo con lo voi che poi l'indomani fa un articolo che dice la politica non chieda alla magistratura di regolare i propri conti e quindi con una presa di posizione netta di tutte le procure antimafia che escludevano quella telefonata io sarei stato sfiduciato oppure morto perché in quel momento io sinceramente avevo meditato a Sicilia un momento di debolezza però io non avrei il retto al fatto che tutta la mia vita e i sacrifici della mia vita fossero coperti di fanco in fondo l'onore vale più della vita questa è la mia logica questa è la mia scelta hanno tentato di mascariarmi di insultarmi attaccandomi accusandomi di ogni cosa io sono qui a testa alta ferito ma non ucciso ferito dalle cattiverie che ho avuto soprattutto dai miei compagni dal fuoco amico quelle cattiverie e tremendo dettate dall'invidia incapaci di pensare al progetto generale di pensare agli interessi della Sicilia e di vedere solo la propria ambizione personale a 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